Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento di parlare dei testamenti di Margaret Atwood mi sentirete chiamarlo a volte testamenti, a volte testaments stessa cosa per The Handmaid's Tale e il racconto dell'ancella, è abitudine, scusatemi e niente, volevo parlarvene sul canale, ci ho messo un po' a fare il video sono passate più di due settimane da quando l'ho finito però penso che fosse un video necessario, sono stata super impegnata nelle settimane scorse quindi ora che ho finalmente tempo, sono qui a raccontarvi se mi è piaciuto, se ne vale la pena se ha senso leggerlo, se ha avuto senso scriverlo probabilmente è un libro che è stato attesissimo, penso che l'annuncio dell'arrivo dei testamenti sia stata una delle cose che forse ha fatto esplodere l'internet, almeno per noi fan della Atwood io sono una grande amante della sua scrittura e quindi non so come dire attendevo questo momento da quando ho letto l'ultima pagina dei Handmaids e devo dire che essendo diventata anche una grandissima fan della serie televisiva che per me a mio parere, come la penso io, sia una delle più incredibili serie degli ultimi anni soprattutto a livello cinematografico ma non solo e quindi niente, insomma io non vedevo l'ora che arrivasse The Testaments per capire che cosa ci avrebbe donato Margaret Atwood però direi che quindi è arrivato il momento di iniziare Bando alle Ciance allora, prima di fare questa recensione mi sono chiesta più volte una cosa in particolare se per parlare dei testamenti avesse sempre senso fare dei paragoni con Handmaids cioè bisogna sempre recensirlo, parlarne, raccontarlo insomma facendo quel collegamento con il racconto dell'ancella cioè è una cosa necessaria da fare per quanto riguarda questo libro perché in realtà sono due volumi estremamente diversi fin dalle prime pagine che ho iniziato a leggere mi è stato subito chiaro che la Atwood abbia preso un percorso molto diverso da quello di Handmaids più moderno per certi versi ma sicuramente differente e quindi insomma anche questo continuo paragone a volte non mi sembrava corretto però diciamo che in queste due settimane, tre anzi probabilmente più ci ripensavo e più questo non volerli paragonare mi sembra sbagliato per alcuni versi perché se pensiamo a Handmaid's Tale e a ciò che ha rappresentato abbiamo tutti delle aspettative, abbiamo tutti dei parametri con cui giudicare un'opera del genere i testamenti non possono eludere questi parametri che noi abbiamo nella nostra testa e quindi diciamo che cercherò non sempre di paragonarli però per alcuni versi purtroppo è impossibile non farlo insomma oggi proverò a spiegarvi il mio punto di vista cercando di non fare mai spoiler o dandovi informazioni necessarie se farò spoiler lo dirò prima in modo che possiate saltare e non avere diciamo punti rovinati ecco, insomma cercherò di farmi un'idea di ciò che ho letto insieme a voi così posso mettere a terra tutto quello che ho pensato in questo periodo partiamo banalmente dalla trama la narrazione di The Testaments si snoda su tre punti di vista uno che conosciamo già che è quello di Aunt Lydia, quindi di Zia Lydia e invece due personaggi nuovi che sono due ragazze adolescenti una che abita a Gilead e l'altra che invece abita in Canada i testamenti sono una raccolta di testimonianze che vengono ritrovati e che parlano di un periodo che va molto dopo la storia di Offred quindi di Diffred che noi conosciamo dal racconto dell'Ancella capiamo cos'è successo alla fine della storia di Offred e ciò che invece succede a Gilead come si è evoluto Gilead impariamo a percepirne le crepe i dubbi anche che si instillano sempre più forti in chi è stato anche forse parte forse più cattiva e più violenta nell'instaurazione di questa teocrazia ci sono molti dubbi proprio dei fedelissimi soprattutto impariamo a capire cos'è successo attorno a quella che noi vedevamo come prospettiva di Diffred e quindi in questo caso siamo molto distanti vediamo ciò che è successo nei meandri anche ciò che succede nei piani di potere seguiamo l'immobilismo, la paura e dall'altro lato invece seguiamo dei punti di vista molto diversi che sono quelli delle due ragazze e a proposito di questo parto subito con una piccola critica che non è tanto piccola in realtà diciamo che fino a oltre la seconda metà la prospettiva delle due ragazze adolescenti è completamente inutile perché tutto ciò che tu vuoi leggere è il punto di vista di zia Lydia del resto non te ne frega assolutamente nulla diciamo che si fatica a capire come si potrebbero intrecciare queste storie e questo ci sposta l'attenzione sul personaggio al quale siamo più affezionati cioè affezionati poi per modo di dire però sicuramente dal quale riceviamo un ritorno al passato e quindi questo ci permette anche di contestualizzarlo invece abbiamo una ragazza che ci spiega magari aspetti di Gilead di chi c'è nato e cresciuto dentro e quindi che ha una visione chiaramente diversa ancora rispetto a quella che ci offriva Offred ovviamente perché in questo caso è una bambina che è cresciuta in questa cultura se cultura possiamo dire e dall'alto seguiamo questa ragazza che abita in Canada e che sinceramente è forse il punto più debole ci fa vedere la parte di ciò che accade oltre il confine di come viene percepita Gilead di ciò che forse si fa in maniera troppo timida un po' per l'opinione generale da parte degli altri governi eccetera quindi insomma sono tre prospettive molto sbilanciate a mio parere perché tutte vogliamo sapere cosa succede ad Aunt Lydia però la narrazione è molto intervallata da tutte le prospettive e fino alla seconda metà è difficile riuscire a empatizzare a trovare anche trascinante la voce delle due ragazze sembra un po' quasi per il lettore che finché non arriviamo a un punto cruciale della storia dove ci sarà la necessità un po' di tirare le somme le due prospettive risultino totalmente inutili quindi che sono superfle quindi fino a quel momento ne avremmo potuto tranquillamente fare a meno e prima di arrivare alle vere e proprie comparazioni intanto appoggio il libro perché sennò sembro pazza parliamo degli aspetti positivi beh vi ho già accennato qualcosa di negativo ma magari c'è anche di buono anzi secondo me questo è un libro estremamente dinamico io veramente ho vissuto per leggerlo in quei due giorni in cui ce l'avevo tra le mani perché è un libro pieno di azione è un libro molto dinamico è molto meno cupo per tanti versi rispetto a Handmaid's Tale e anche più positivo cioè il lettore leggendolo riesce a percepirne quasi sempre quella sorta di senso di speranza e insomma ogni tanto ci serve ne sono convinta non ci serve solo pensare che tutto andrà a finire male seguiamo proprio tre personaggi che a un certo punto per forza sono costretti a fare i conti con i limiti di Gilead e quindi tutte e tre sono disposte a sovvertire l'ordine costituito e a combattere contro il sistema rischiano infatti tutto per la libertà e per distruggere Gilead e proprio il fatto di avere due personaggi adolescenti a me quanto meno ha dato molto l'impressione che comunque ci sia una sorta di galleggiamento di sospensione di ciò che puoi effettivamente fare o ciò che non puoi fare perché gli adolescenti non vengono ascoltati non hanno potere eccetera eccetera però dall'altro lato sono proprio loro che danno il via e vogliono partecipare sono la forza trascinante di questa rivoluzione ecco non succederà una rivoluzione ve lo dico non è spoiler però il fatto di voler essere coinvolti il voler partecipare volenti o nolenti diventa necessario per loro e in questo caso secondo me la Atwood voleva darci un po' una visione dove la prospettiva dove i bambini e i giovani sono il futuro della nostra società che è una cosa che io condivido fortemente quindi che non posso che sostenere per come è stata posta dentro il romanzo e dicevo galleggiamento anche perché proprio ci troviamo a non sapere bene essere invischiati in una situazione talmente complicata che nessuno potrebbe trovare una soluzione schioccando le dita e quindi insomma se dalla loro parte li capisci e tifi per loro chiaramente e lasciatemi anche dire una cosa dall'alto dei suoi 80 anni portati come una regina la Atwood riesce a rappresentare e a scrivere personaggi adolescenti molto meglio di tre quarti degli autori young adult e di letteratura per ragazzi perché ha una capacità di tradurli in dialogo, in azione e anche nei loro difetti e non sempre farli vedere come forti, disposti a tutto anzi soprattutto far vedere quanto sia difficile il coinvolgimento far vedere quanto siano bloccati dalla paura, dall'inesperienza da tantissimi aspetti che però lei riesce a tradurre e interpretare molto bene e anche a far vedere in una prospettiva dove lo slancio effettivamente è avvenuto il problema è che di nuovo di loro ci interessa molto poco perché non riusciamo forse proprio perché dall'altro lato abbiamo Lydia e quello forse è il limite non riusciamo a vivere per loro noi ci mettiamo tantissimo tempo e anche i plot twist che ci saranno e ce ne saranno numerosi soprattutto nella seconda metà che sono anche molto importanti possiamo dire anche per svelare un po' come queste tre prospettive a un certo punto hanno senso insieme sono molto telefonati cioè sono prevedibilissimi a un certo punto perché ti prepara proprio all'arrivo di questa cosa e sai che a un certo punto verrà fuori detto ciò prevedibile o meno io mi sono continuamente emozionata leggendo questo libro davvero non posso negarvi che comunque per quanto fossero prevedibili eccetera soprattutto dopo aver finito anche l'ultima stagione di Handmaids l'ho letto col cuore in gola l'ho letto con una carica emotiva che non pensavo mi avrebbe suscitata all'inizio devo esservi sincera diciamo che manca un po' di imprevedibilità al libro perché tutto va anche secondo i piani tutto fila abbastanza liscio e noi sappiamo che nella resistenza invece e nella vita poi in generale questa è una visione un po' semplicistica ecco forse è un po' troppo speranzosa sarebbe bello se tutto fosse davvero così e sappiamo che non è mai così non ci va tutto bene perché i nostri progetti sono dei casini totali quasi sempre non prendiamo in considerazione tutti gli aspetti di un problema e quindi insomma un po' questa imprevedibilità toglie molto del fascino a tutta la narrazione detto ciò ripeto che io ho vissuto per due giorni con l'ansia di doverlo finire è un libro tra l'altro scritto in una maniera più contemporanea e moderna come vi dicevo forse prima perché è davvero molto più fluente da un certo punto di vista rispetto a Handmaids che era molto più traballante era incerto ma non incerto perché l'autrice non sapeva cosa fare però era talmente a flash continui era talmente titubante la nostra protagonista che noi eravamo nel suo stesso stato d'animo in questo caso abbiamo qualcosa di molto più fluido che cambia molto e ciò non toglie che però la scrittura della Atwood rimanga una delle scritture più incredibili del novecento e in questo caso degli anni duemila io penso di aver sottolineato tra l'altro con la Biro perché sono un'orribile persona tre quarti del libro quello non può passare perché se una sa scrivere sa scrivere meglio diciamo che in questo libro però l'Atwood risulta un po' meno dirrompente rispetto al primo volume un po' tanto meno infatti il tono subisce un drastico cambio che probabilmente è dato dalla serie tv anche dall'avvento di Handmaids nella cultura popolare e quindi si è allargata la platea deve essere forse un libro più raggiungibile più semplice rispetto a Handmaid's Tale combina anche proprio elementi che sono noti al lettore ma tanti che sono noti anche a quello della serie tv anzi probabilmente leggere questo senza aver visto l'ultima stagione e la seconda stagione è complesso è qualcosa che forse non riusciamo a cogliere perfettamente sarei curioso di vedere cioè di sapere l'opinione di chi non ha visto la serie tv ma ha letto solo Handmaid's Tale io purtroppo per fortuna le ho viste entrambe perché sono eccellenti secondo me tutte e tre le stagioni in questo caso però c'è sempre quel bias che io so che cosa è successo dopo Handmaid's cioè dopo il racconto dell'ancella perché ho visto la serie qui cosa succede? succede qualcosa che è molto legato alla fine della seconda e della terza stagione quindi anche questo essere raggiungibile dalle masse forse da chi ha visto la serie tv è più accessibile come scrittura come linguaggio come fluidità e dinamicità della narrazione da un lato è sia l'aspetto più positivo che la pecca di questo libro che ora riappoggio avete presente tutto quel pippone che vi ho fatto prima su come comparare comparare sì comparare no eccetera cioè adesso avrà un senso con il discorso che sto per fare che si allontana un po' dal ragionamento solo e unicamente su che cos'è il libro trama, scrittura personaggi eccetera eccetera allora io penso e ho sempre considerato Margaret Atwood un'autrice estremamente coraggiosa la potremmo definire un'autrice che non ha paura come è successo per tanti altri autori di essere cattiva e questo è qualcosa di raro ormai nella letteratura soprattutto quei lettori che troppo spesso confondono o male interpretano il pensiero dell'autore cioè come persona con ciò che racconta quindi pensando che ciò che scrive è fondamentalmente ciò che pensa invece a mio parere noi avevamo necessità come persone di vedere quella crudeltà perché siamo diventati davvero una società che sempre di più si gira dall'altra parte quindi forse anche questo è il momento storico in cui è più importante leggere Handmaid's Tale siamo proprio una società che si gira fa finta di non vedere si disinteressa dei grandi problemi in fondo non ci scomponiamo per i bambini che muoiono in Yemen per denutrizione con una guerra che va avanti da anni non combattiamo al fianco delle donne sudamericane che rischiano il carcere per l'aborto o quelle iraniane perché si tolgono l'ijab in piazza davvero non ci scomponiamo nemmeno più per i morti in mare che arrivano sulle nostre coste e li continuiamo a sminuire perché in fondo nella nostra testa è passato quel concetto che sono tutti adulti sani e in forza e quindi magari tutto quello che hanno passato le atrocità che hanno visto noi le continuiamo a sminuire continuiamo a pensare che qualcosa di lontano che noi non vediamo e invece se noi le vedessimo in prima persona probabilmente ci destabilizzerebbero così tanto e ci farebbero ripensare a tutto ciò che diciamo e a non so come dire alla nostra scala di valori che forse il nostro opposto che pensiamo sia sicuro traballerebbe un pochino noi non riusciamo nemmeno a immaginare tali atrocità e per questo le allontaniamo per questo le sminuiamo perché davvero ci farebbero mettere in dubbio tutte le nostre sicurezze noi abbiamo bisogno di quelle sicurezze però dall'altro lato girarsi dall'altra parte sta diventando troppo comodo troppo facile e sempre di più noi siamo disinteressati a ciò che ci accade attorno la Atwood 30 anni fa ha creato un mondo brutale inimmaginabile probabilmente per tantissimi lettori e ci ha fatto ricredere proprio sulle nostre certezze sulle nostre sicurezze ha messo in dubbio proprio forse una società come la nostra vicino alla nostra quindi quella americana dove tutto è crollato dove tutto è andato proprio a fuoco ci ha spinto a pensare e a combattere per questo perché in Handmaids noi siamo stati al fianco di Diffred non ci siamo girati dall'altra parte perché sappiamo che potevamo essere noi Diffred pensate che di Gilead noi sapevamo pochissimo e proprio questo è uno degli aspetti che io ho più amato di Handmaid's Tale perché come lettrice ciò che emergeva durante la lettura era proprio questo senso di paura di inquietudine che ti scatena una lettura del genere perché la Atwood lasciava tantissimi elementi in sospeso noi non sapevamo tutto non sapevamo per file per segno come era fatta Gilead non avevamo la totale certezza e non conoscevamo tutto quello che forse ci avrebbe aiutati ad estreggiarci in questo mondo ci sentivamo smarriti frustrati e il colpo di grazia arriva con il finale di Handmaid's Tale dove ti getta ancora di più nella confusione e nella frustrazione di non sapere e infatti secondo me perché la Atwood è una grandissima autrice perché non è tanto ciò che lei ci dice o ciò che i suoi personaggi fanno o ciò che sono i luoghi le situazioni e ciò che non viene detto ciò che non viene fatto ciò che non viene scritto tutto ciò che noi sperimentiamo dentro Handmaid's proviene dalla prospettiva di D. Fred e quindi ci muoviamo secondo i suoi occhi che hanno una visione molto limitata del mondo tutto ciò che Offred non sa non lo sappiamo nemmeno noi e il finale è proprio ambiguo in maniera chiaramente voluta e secondo me questi sono strumenti potenti per uno scrittore perché sa cosa sta stimolando nel lettore tu lettore ti rendi conto che vivi la stessa cosa che vivono i personaggi e questa ambiguità questa incertezza sono ciò che ti fa avere più paura perché quando hai tutto certo quando sai tutto hai tutti gli elementi logici per razionalizzare un percorso invece tu non li hai e quindi sei nel panico ed è un vero proprio atto di autocontrollo quello che fa la Atwood quello di dire ma non dire tutto di lasciare alcune cose senza risposta e soprattutto lasciarti la speranza di avere un lieto fine mai esplorato credo davvero che sia uno dei maggiori punti di forza di Handmaid's Tale del racconto dell'ancello in italiano ed è quello più inquietante forse non sapere come andrà quell'agonia finale ti suscita quell'agonia come se ti avessero strappato da una situazione dove volevi vedere cosa succedeva dopo non so avviene un episodio per strada molto grave e tu a un certo punto non puoi vedere come andrà a finire quindi hai paura che sia andato tutto male e non sai se è andato effettivamente così oppure se magari le cose si sono risolte quindi ci speri ci speri ma hai paura per me è stato un bene continuare ad avere quel dubbio continuare ad avere quella paura che ti dice probabilmente nulla è andato per il verso giusto non c'è stato un grande salvatore che è arrivato e ha risolto tutta la situazione perché questa paura ci ricorda ogni giorno che noi dobbiamo stare svegli essere vigili e combattere The Handmaid's Tale infatti ci costringe a immaginare a chiederci continuamente cose e a farci temere il peggio ma anche sperare nel meglio i testamenti non fa la stessa cosa e questo è il difetto principale non perché debba per forza fare la stessa cosa ma abbiamo assistito a un libro che era di una potenza incredibile che smuoveva nel lettore conoscendolo molto bene alcune corde che i testamenti non replica o comunque non muta forma diciamo va più incontro al lettore lo rassicura quasi a un certo punto infatti i testamenti lasciano molto poco spazio all'immaginazione usa le tre prospettive proprio per riuscire a coprire tutto ciò che poteva essere nel dubbio poteva essere ambiguo è una narrazione molto più standard più buona se vogliamo che veicola un messaggio in maniera molto esplicita dove non c'è nulla di sospeso nulla nel dubbio non ci sorprende mai fino in fondo e continua a giocare un po' con il sentimento che noi proviamo verso certi personaggi e le paure che noi abbiamo accumulato con la lettura di Handmaid's Day ciò che avevamo letto nel primo libro era qualcosa che pur non sapendolo avevamo bisogno di conoscere perché ci ha fatti sentire meno sicuri e quindi in questo modo ci ha risvegliato la coscienza the testament non lo fa e quindi banalmente è un libro che è stato piacevole da leggere ma che non è necessario ma soprattutto per questo non tanto perché sia un pessimo libro scritto male eccetera no è che il punto di partenza era talmente potente che tutto ciò che non è altrettanto potente risulta un po' inutile questo libro in fondo non ci getta nella disperazione nella confusione nel dubbio questo libro ci rassicura ci dà un pat pat sulla spalla e ci dice dai in fondo andrà tutto bene ci accontenta in qualche modo e dalla Atwood devo dire io non mi aspetto di essere rassicurata e so che è una frase assurda mi aspetto da lei una chiamata alle armi pretendo in qualche modo che ci rammenti che non ci dobbiamo mai rilassare che non dobbiamo mai sentirci totalmente al sicuro e che quindi dobbiamo rimanere perennemente vigili e non pensare che sarà tutto facile che andrà tutto bene perché è un concetto semplicistico ecco quindi è in questo che i testaments falliscono non è nel romanzo in sé nella scrittura che comunque ripeto è stato molto piacevole da leggere non è assolutamente un brutto libro anzi diciamo che se il nostro coinvolgimento emotivo risulta in questo momento così distaccato forse verso questa lettura è perché non riesce a scuoterti nel profondo non riesce a puntellarti su quelle che sono forse le paure più radicate dentro di noi cioè che ci portino via tutto ci releghino alla schiavitù e che tutto ciò che noi pensiamo sicuro e certo ci venga portato via e quindi è per questo che probabilmente non era necessario questo libro e in questo non lo cioè continuo a sostenere che non lo fosse è stata una lettura piacevole che io vi consiglio di fare anche un po' per fare questo paragone e un po' per leggere cosa succederà dopo in fondo è stato piacevole anche essere rassicurata a volte ne abbiamo bisogno probabilmente dalla Atwood non ne sentivo così tanto la necessità io mi aspetto dalla Atwood che mi faccia camminare sui chiodi non voglio un pat pat sulla spalla ecco forse ho cercato di spiegarvi per bene qual è il mio sentimento verso questo libro che comunque vi consiglio assolutamente The Testaments è i testamenti è comunque un ottimo libro che vi consiglio di leggere anche solo per piacere perché comunque ci sono cose anche proprio a livello di scrittura molto belle e molto potenti allora quali che fossero le forme e i lineamenti nostro malgrado eravamo un insidia una lusinga la causa inconscia e incolpevole che per nostra stessa natura avrebbe inebriato gli uomini di lussuria li avrebbe fatti vacillare sbandare e ruzzolare oltre il ciglio ma il ciglio di cosa ci chiedevamo noi una specie di burrone e precipitare in fiamme come valanghe di zolfo rovente scagliate dalla mano rabbiosa di dio le impronte corrotte e insanguinate del passato devono essere cancellate creando uno spazio puro per la generazione moralmente immacolata che senz'altro emergerà questa è la teoria niente io spero che vi sia risultato interessante questa discussione sui testamenti se non l'avete mai fatto fatevi un favore leggete il racconto dell'ancella preparatevi a una mazzata totale e poi così potete leggere anche i testamenti o se l'avete letto voglio sapere la vostra impressione sono curiosa io vi ringrazio come sempre per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero che la recensione vi sia piaciuta e pure il video e niente direi che noi ci vediamo al prossimo video ciao